Le nomine al Comune di Procida, Dino a che punto siamo? Il Comune di Procida è come un'azienda privata, laddove si scelgono dei collaboratori che poi non fanno al caso nostro è chiaro che noi li cambiamo così come succede in tutte le dinamiche ordinarie dove dei privati scelgono dei collaboratori. Per quanto mi riguarda essere al caso nostro significa essere una persona che si dedica, che lavora, che ci mette la nostra stessa passione, che ci mette il nostro stesso impegno, quindi quando poi non riusciamo a trovare le persone che corrispondano rispetto a questi standard credo che sono persone che non sono destinate a continuare alla collaborazione con noi. Abbiamo adesso iniziato un percorso con l'architetto Luca Imparato, è più adulto come età, quindi è una persona che ha più esperienze e io credo che abbia i requisiti per fare bene al Comune di Procida. Per quanto riguarda il Segretario Generale, quello che voglio sottolineare, che è importante dire, è che nell'attuale assetto noi spendiamo per questa competenza 20.000 euro all'anno, viceversa quando cominciamo ne spendevamo 110.000 euro. Sono previste assunzioni oppure integrazioni nell'organico che è notoriamente sottodimensionato? Allora la cosa urgente che dobbiamo fare è la sostituzione per l'ufficio finanziario perché il ragioniere Rogiro andrà in pensione entro l'anno, quindi a breve faremo un altro bando per poter selezionare una persona a cui affidare la responsabilità della ragioniere.